Il travestito Tom Neuwirth, conosciuto come Conchita Wurst, ha vinto l'Eurovision Song Contest quest'anno. Persino i media hanno chiamato mediocre la sua canzone e la sua voce. Il criterio non era solo lo spettacolo musicale, ma soprattutto la politica. Ciò nella prima intervista Conchita ha mandato al maccio del Kremlino Putin dei saluti d'amore nel nome della comunità globale degli omosessuali e delle lesbiche. Siamo irrefrenabili. Con ciò l'Eurovision Song Contest stesso si è smascherato come concorrenza sleale, in quanto le sue condizioni di partecipazione dettano che nessuna canzone o comparsa possa contenere un messaggio politico. Pare che si sia manipolato miratamente per rendere l'ideologia agenda presentabile al popolo col pretesto dell'arte.